La caccia al killer di Pierpaolo Panzieri si è conclusa in Romania. Nella tarda mattinata di oggi la polizia romena ha individuato e fermato il trentenne pesarese dopo una procedura di controllo che ha interrotto la sua fuga nell'est Europa a bordo di una Renault Clio di famiglia. Si sarebbe messo in fuga dopo aver ucciso il ventisettenne pesarese Pierpaolo Panzieri con tredici coltellate inferte a torace, schiena e collo all'interno dell'appartamento della vittima in via Gavelli 19 in pieno centro storico a Pesaro a poche decine di metri dal conservatorio e da via Branca. Il presunto assassino sarebbe Michael Alessandrini, nome divulgato oggi ma sospettato che già da ieri era finito presto in cima alla lista delle indagini della squadra mobile di Pesaro. Michael Alessandrini descritto come un ragazzo con trascorsi di problemi psicologici, ludopatia ed episodi di condotta violenta. Alessandrini è figlio del titolare dell'hotel San Marco, storico albergo del centro di Pesaro dove lo stesso Michael lavorava come portiere. A quanto pare tra l'altro vittima e carnefice erano stati anche visti assieme nei pressi dell'albergo in più occasioni. Alessandrini e Panzieri si conoscevano da tempo e lunedì sera Pierpaolo avrebbe dunque aperto la porta al suo assassino. I due avrebbero cenato insieme fino a quando la situazione per motivi ignoti è degenerata in maniera cruenta e letale fino alla tragica scoperta di martedì mattina da parte di Gianmarco, fratello di Pierpaolo, che ha trovato il familiare ucciso e riverso in una pozza di sangue. Sangue le cui tracce macchiavano anche oggi i gradini dell'abitazione e la pavimentazione di via Gavelli. Michael Alessandrini si è dato alla fuga oltrepassando la frontiera da Trieste alla Slovenia per poi continuare a scappare attraverso l'est Europa con poche centinaia di euro in tasca rubate alla nonna prima della visita a casa di Panzieri. Alessandrini si è portato con sé sia l'arma del delitto sia il cellulare di Pierpaolo Panzieri mai rintracciati dalle indagini nei pressi dell'abitazione di via Gavelli. Squadra mobile procura della Repubblica del Tribunale di Pesero che per tutta la notte fra lunedì e martedì hanno lavorato per braccare la fuga dell'assassino fino all'epilogo in terra romena. Qui fino al pomeriggio di oggi è stato in custodia della polizia locale in attesa della formalizzazione del mandato d'arresto internazionale. Restano ora da capire i tempi per un suo rimpatrio e restano soprattutto le mille incognite di un delitto che non trova spiegazioni per una famiglia Panzieri distrutta dall'aver perso un ragazzo di 27 anni tranquillo come tanti senza inimicizie tali da presagire una fine così drammatica.